ciao sempre per la serie disegnare delle cose più tecniche e più diritte come curve e linee oltre agli strumenti che abbiamo visto l'altra volta qua giù esistono le guide le guide sono come dei righelli su un foglio di carta quindi le utilizzo con gli stessi strumenti con i quali disegnerei a mano però posso attivarle da qui e obbligano il mio segno a seguire certi percorsi quindi possiamo vedere ora che è selezionata la guida circolare ed è anche apparso questo pallino rosso al centro se io disegno adesso dei cerchi come vedete anche se io non volessi disegnare un cerchio sono obbligato a stare su un cerchio qual è il vantaggio rispetto alla forma cerchio è che posso regolare per esempio la pressione o lo spessore quindi con le solite regole degli strumenti ma a mano mentre disegno senza utilizzare il thickness profile e quindi in un modo diciamo più naturale come se stessi disegnando a mano nel caso della guida circolare il centro è da dover decidere nel senso in questo momento è per forza al centro dell'immagine è questo pallino rosso come lo muovo? Beh posso decidere di utilizzare vari tipi di centro per ora è impostato su cursore sappiamo che in questa modalità 2d animation blender ci nasconde il cursore ma possiamo anche rivisualizzarlo da quassù 3d cursor e infatti eccolo lì possiamo spostarlo con un maiuscolo tasto destro e spostare il cursore e andare a disegnare i cerchi dove vogliamo e sposto il centro del cursore posso disegnare ovviamente anche solo parti di un cerchio o quello che mi interessa so che rimarrò obbligato su un cerchio in quella posizione ma sono io a decidere ci sono altri modi per posizionare il centro quindi cursore è quello che io uso sempre perché è il più pratico eventualmente c'è custom in cui possiamo dargli proprio una posizione nello spazio quindi che ne so a meno 2 metri sulle X quindi l'ha messo qua giù e quindi io adesso disegno dei cerchi qua giù con il centro a meno 2 metri dopodiché l'altra opzione che a volte può essere sicuramente più comodo da usare l'opzione oggetto quindi il centro sarà su un altro oggetto che qui devo selezionare siccome in questa scena non ce n'è se io vado in object mode e aggiungo di solito si usa un empty per queste cose e aggiungo un empty ora posso spostarlo andiamo lo sposto anche un po' in avanti per farvi vedere che comunque allora ecco lo metto qui nella telecamera lo vedo lassù posso anche spostarlo un po' più giù torno nel mio oggetto grease pencil in draw mode e adesso se nella guida scelgo object e scelgo l'empty ora il centro del mio cerchio sarà questo notate comunque che non è che perché il centro si trovi lì il mio disegno si trova da un'altra parte il mio disegno continua a trovarsi nello stesso posto perché questo posto è indicato qui nel fatto che si deve trovare nell'origine sul piano XZ e quindi continua a essere disegnato nello stesso posto però uso l'empty come posizione per il centro altri modi sono radiale radiale è uguale al circolare ma vado sui raggi ritorno a utilizzare cursor perché è quello più semplice da usare radiale significa che posso tracciare i raggi di un cerchio adesso con questo strumento non si vedono granché passo a pen come vedete posso tracciare e sono sicuro che il centro cadrà per forza in questo posto comodo per tracciare per esempio delle linee cinetiche se utilizzo uno strumento che finisce per bene a punta posso fare delle linee cinetiche come quelle che troviamo nei manga per esempio che vanno tutte verso un punto centrale abbiamo poi parallelo parallelo significa che tutte le linee saranno proprio come un righello nella realtà vera diritte e parallele tra di loro rispetto a questo angolo quindi 0 significa orizzontale se mettessi 30 gradi significa 30 gradi verso l'alto posso usare anche il meno quindi che ne so meno 30 e avrò 30 gradi verso il basso e sono tutte perfettamente parallele 90 gradi disegna delle righe verticali poi abbiamo griglia che mi obbliga a delle righe orizzontali e verticali molto facile da capire diciamo isometrico è quello è un po più strano mettiamo un angolo di 30 allora isometrico è quello dei classici disegni di certi videogiochi di una volta diciamo nella quale c'è una finta prospettiva che appunto viene detta isometrica in questi tre diciamo assi per quello ci sono 30 gradi in questo caso le righe verticali è sempre possibile farle le altre due possono essere regolate da qui quindi se mettessi i 20 adesso la mia isometria ha invece un'inclinazione di 20 gradi e appunto a volte è difficile convincerlo ad andare in verticale ecco bisogna muoversi con la penna bene in verticale altrimenti prende l'altra direzione però ecco questa è la guida isometrica la trovo un po meno utile però insomma regolabile anche questa qua giù questi strumenti ci permettono di continuare a disegnare a mano ma come nella realtà useremo un righello o un cerchiografo diciamo qua abbiamo a disposizione questi strumenti che ci permettono di avere dei disegni morbidi perché fatti a mano però che seguono certe linee e certe curve grazie e alla prossima grazie a tutti